Buon pomeriggio a tutti, oggi siamo martedì e 8, no mercoledì 9 dicembre, ieri era l'8 scusate c'è un po' di congiuntivite raffreddore, non è covid congiuntivite è veramente maledetta ma non posso non rispondere, cioè non posso non dire questa cosa cioè io posso capire che non credi in Cristo, in Gesù come figlio del creatore come un essere di sesta dimensione quello lo posso capire, ma chi dice che non è esistito Gesù è proprio assurdo è storia, è come se dicesse non è esistito l'impero romano non è esistito Giulio Cesare, Gesù è come non esistito e non solo ma vi siete mai chiesti come mai dopo 2000 anni il nome Gesù Cristo è ancora il nome più nominato del mondo che è successo 2000 anni fa per essere un nome così importante se non quello che ha fatto è già questa una prova della verità Gesù è diventato così diciamo tra virgolette famoso a quell'epoca perché venivano dai paesi esterni per vedere lui che toccava e resuscitava i morti o guariva da malattie assurde la cecità la lebra, tante cose ecco perché era stato veramente creduto come figlio di Dio che quello che faceva non l'ha fatto mai nessuno lui ha dato apposta questa prova, il miracolo dei pesci camminava sull'acqua perché ripetiamo loro dalla quinta dimensione in poi possono galleggiare, possono trasformarsi in luce o in materia come con l'astronavi e Gesù è collegato con gli alieni se no non avrebbe senso no? gli alieni sono gli alieni, i fratelli superiori noi li chiamiamo però perché quando faccio il video dico alieni o UFO o extraterrestri che ormai è evidente che ci sono lo hanno detto tutti la marina militare americana, la NASA, il Pentagono solo che loro adesso stanno a dire che sono cattivi quindi per giustificare ancora più il maledetto mercato delle armi ci dicono che sono cattivi così allora si chiamano le armi ecco quindi raga svegliamoci un attimo tutti quanti cioè non solo Gesù è esistito veramente perché fa parte della storia ma come mai il nome di Gesù è diventato qualcosa di diciamo che ancora no? perché queste sono le prove lui vestito così come il ragazzotto normale abbiamo un arto di 86 mentre l'altezza media era di 1,60 è diventato Gesù così famoso che adesso addirittura lo preghiamo per questi motivi non c'è altro motivo non è che predicava e è diventato famoso solo per predicare dopo 100-200 anni te si scorda la gente ci sarà qualcun altro che predicherà come te ma a resuscita i morti nessuno lo può fare lui l'ha fatto apposta per dare la prova ragazzi io ho avuto le prove che esiste Gesù non che l'ho visto ma mi è successo ripeto il 13 febbraio 2019 un evento da cui io non posso più ritornare indietro cioè posso dire vabbè vabbè però dai non seguo più sta strada è impossibile perché dal momento che so la verità adesso pagherei tantissimo e poi sono felice sono contento ho sempre ricercato gli UFO da piccoletto ma addirittura sono l'esercito di Gesù il famoso esercito che disse a Pilato a Pietro San Pietro ma se io voglio papà mi manda 20 legioni e mi liberano subito ma è la missione che devono fare per allevarci siamo nelle scuole qua sono scuole i pianeti solo qua si può sparare si può uccidere fuori da qua non è consentito vabbè voglio dire moltissime altre cose ma ho l'occhio che me lacrima scusate buon pomeriggio a tutti e buon proseguimento grazie a tutti 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 grazie a tutti